C'è molta Europa in Toscana, basta aprire gli occhi a dirlo il presidente della regione Enrico Rossi durante la tappa in provincia di Arezzo del tour organizzato per visitare aziende, città e scuole che hanno beneficiato dei fondi europei. 293 milioni di euro in tutto nel settennato 2007-2013, 75 milioni di euro fino ad oggi per quello dal 2014 al 2020. In Europa bisogna starci, l'Europa non è solo burocrazia, l'Europa non è solo vincoli, ma è anche assi di sviluppo, modi di ragionare, far parte di una comunità che scommette sulla competitività per esportare e per stare nel mondo. Il viaggio nella retina è quindi cominciato a Foiano nell'Istituto Comprensivo Statale Marcelli per il progetto Eureka. 115 mila euro di contributi europei per avvicinare 360 studenti di scuole diverse alle imprese della filiera della meccanica. Poi la visita alla sede della Ila Pack, che con i contributi europei ha realizzato un innovativo sistema di saldatura a ultrasuoni per buste flessibili. Tappa successiva su Biano nella sede della AEC, che ha investito anche fondi europei su una nuova tecnologia di LED e su un software per il controllo dell'illuminazione pubblica. A Ponte Acchiani, Rossi è stato accolto nella Cantina Vini Tipici, che con i contributi europei ha rinnovato i macchinari e investito nel risparmio energetico. Il viaggio è continuato nella Fortezza Medicea di Arezzo, trasformata in un polo ricreativo grazie a un Piu, un progetto di innovazione urbana, che ha riguardato anche la Piazza Grande, le ex caserme Cadorna, l'ex mercato ortofrutticolo della Pescaiola, con un investimento di 26 milioni di euro. Ultima azienda visitata, la Zeus di Bucine, che con i fondi europei ha potuto abbattere del 56% i propri consumi energetici. Grazie a tutti.